ecco mi è stato posto il pino di natale ah si muove c'è ciuscaccio via da lì ciuscaccio è l'albero di natale per ciuscaccio c'è una calamita poi ci sale dentro cioè non è che ci sta sotto a giocare con le palline allora ho messo le luci fuori adesso dopo vado a fare un video e altre cari ovviamente c'è casinissimi luci gli ho messo tre giri di luci sulla casa e basta poi a ciuscaccio gli sono c'è guardalo guardalo c'è ciuscaccio gli ho messo a posto io i palline sull'albero c'è ciuscaccio vai via c'è poi altre cose l'albero è cancellato perché oggi pioveva c'è il tempo era brutto poi guarda immondizia fai cadere scimmia e giù immediatamente cioè guarda immondizia come se te ne frega perché lui deve salire sull'albero cioè montare le luci ho perso le luci strattiti perché vengono giù così poi ho detto ma come si fanno montare queste qua ma dopo l'ho pensato chiodi attac scotch poi alla fine ho trovato quelle mollette per pinzare poi sono andato a negozio perché non avevo quelle mollette lì ah ma ci sono i ganci a posta sono in giocatore e ho comprati 100 perfetti perché erano proprio lì sotto la teglia si aggancia non sono in plastica come ne devo staccare ciuscaccio mettila poi sono andato a portare l'albergo per ciuschi perché io vado in vacanza e dovrò partire 24 ma ce la posto in hotel 5 stelle cioè 5 stelle per gatti questa è minimo le pensioni più lussuose hanno una stella le stelle cioè sono proprio il garage i ragazzi c'erano dentro sono i sbarghi dalle finestre restano tutti a righe fanno anche il tatuaggio sul braccio ciuscaccio no 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 non è vero prenotato 15 dollari al giorno se vengono solo questo arrivo via a 10 giorni 150 dollari quello lì poi non so come funziona ce la mettono dentro c'erano tutte le casine vista parco ho capito se i gatti stanno dentro la casina tutto il giorno se li fanno uscire ma per me li fanno uscire poi li mettono a dormire dentro perché la sabbia dentro non c'è solo un letto di legno duro a botta in cui passano di mangiare per i gatti li mettono nella fossa chiamata così poi sono andato a comprare le luci 7 dollari al pacco insieme ai luci 6 dollari poi ho comprato cose da mangiare per il sushi le mozzarille niente con le sviziose normali poi la sera in salatona nel mio giardino perché in salatona compravo sempre nei sacchetti ma andava subito male in salatona anche due settimane che va male se adesso in salatona cresciuta al mio prato è più più bello che non va più a male poi pomodori non sono ancora fatti ciuschi ciuschi allora poi stamattina ho giocato un sacco a live stream pro caster fatto uno streaming c'erano cinque o sei persone cioè ho fatto sentire musica molto bello poi sulla marzo andata una sera ho comprato a marifiche per regalato mille dollari poi non c'aveva tredicesima poi in america funziona di dare il bonus ma nella mia compagnia il bonus non c'è quindi mi ha regalato mille dollari e non investi subito insomma sono comprato la collezione completa di ai confini della realtà 27 tv di per arrivare ho comprato tutti i cd di musica del mio compositore preferito che non vi posso dire non capireste 150 cd per la monica cifra di 150 dollari beh insomma un dollaro però i cd si può fare un paccone poi lo farò vedere anche quest'autore i cd avevo comprato un sacco anche su retoons però c'era l'offertona cioè dove tutti la spero di natale l'ho fatto cioè sentire 150 cd metti in caso uno al giorno voglio 150 giorni un sacco poi un cd un sacco di canzoni di canzoni di canzoni di disco con il pacco poi assassin creed l'ho giocato ieri sera assas creed molto molto bello ho vinto il quadro di firenze sono andato a monterregione monterregione tutta la valtichiana un sacco bello monterregione praticamente un castello con la cinta con tutte le case dentro si siano tenuti alla realtà io a monterregione non sono mai stato poi c'era la battaglia di fornì c'è però sarà da scaricare fan scaricare un pack quello che ho letto poi niente allora per il momento è tutto ciao a tutti